Ciao Diego, complimenti per il nuovo result, nuovo meta, nuovo gioco Un bel quinto posto Ah, c'eri quasi alla top 4 Racconta un po', dai Allora, ho giocato Major in Paleontology È una skill nuova, bellissima, mi piace un sacco Mi piace anche l'interazione che hanno i fossili come deck E quindi iniziamo subito con il primo Lui, questo tizio Soldier Che ci permette di aggiungere una carta che menziona fossili nel deck Dal deck alla mano E in più perde 600 d'attacco ogni volta che ha onion in the face Quindi devi bitare subito Esatto Poi abbiamo Gaia Ok Livello 8, fortissimo, che ci permette di specialarlo dalla mano Bandendo due mostri roccia nel nostro cimitero Ed è forte perché con lui può essere una monito di fusioni, di mostri fusioni che vedremo dopo Poi abbiamo un Paki Spacchiamo tutti i mostri evocati special Un buono per tipo controllare il terreno Ad esempio io l'ho usato contro Oggi mi sono trovato contro Neos I neospaziali, quindi è servito tantissimo Poi abbiamo un Revival Golem Che quando viene mandato dal deck al cimitero Ci permette di aggiungerlo alla mano oppure di evocarlo specialmente Poi abbiamo, siccome il mio non fosse il barn Ho tripla copia di Skull King Roba grossa Knight Skull Knight Che praticamente quando viene evocato normalmente Lo mettiamo in difesa e facciamo 500 danni all'avversario E in più ci possiamo searchare lui Gaia Ha senso È il top assoluto, facciamo fusioni anche con lui È tanta roba Tanta roba Poi come ultime abbiamo 3 Temperance Che sa perché Fortissimi Sono dei livelli 6 quindi ottime per fare le fusioni Li mandiamo al cimitero, li scartiamo dalla mano E non prendiamo danno Non prendiamo danno da combattimento Poi abbiamo Quanto riguarda le magie abbiamo 2 Foolish Limitare a 2 fortissime Mandiamo Mandiamo qualsiasi mostro interessante che ci serve per fare fusione D'altronde i fossili possono fare fusione solo dal cimitero Una dividi la sofferenza Fortissima questa, veramente forte Mi è servita un sacco contro un paio di match up Sì Poi abbiamo 3 Time Stream Per evocare i mostri fossili più grossi E poi hanno un altro effetto particolare Che quando lo rimuoviamo dal cimitero insieme a un altro mostro fusione fossile Possiamo evocare un altro dal nostro cimitero Poi abbiamo 300 magie Per pushare danni, insomma Per chiudere in fretta la partita Avendo magari un mostro fusione grosso Ok Abbiamo anche trappole Le uniche trappole sono release from the stone Ok Che ci permette di evocare un mostro roccia bandito E poi abbiamo side hat Rock bombardment Che praticamente mandiamo un nostro mostro roccia al cimitero E facciamo danni barn all'avversario Facciamo 500 danni Sì, ma la cini fai danni Un bella tech Poi non ho la side Ah no Non ho di side questo mazzo Perché quando l'ho sperimentato Non ho deciso di aggiungere la side Ok Mostro corso fusione L'altro più piccolino Che ci serve ad esempio per fare con timestream Aggiungiamo lui Evochiamo lui Poi con un'altra timestream Perché magari lui può essere bandito Aggiungere un'altra dal deck Ed evocare lui Ok Alla fine della fiera abbiamo Questa scaletta bellissima Quindi due di ognuno Esatto Ok, parere finali Prima di concludere Questo mazzo Io sono abituato a mazzi Completamente diversi Come Evil Hero Io ho portato quasi sempre Evil Hero Nei vari torni che abbiamo Nei vari local che abbiamo fatto E poi ho giocato anche Iron Grit Sì, ho giocato Ho spazzato un bel po' Però questo è E' veramente divertente Perfetto Un saluto a tutti Dal local multiplayer Dalla Doing Elite Ci vediamo settimana prossima Un bel abbraccio Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie.